Amici di Raiuno, buongiorno e benvenuti al consueto aggiornamento con le notizie sul traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Il traffico è in aumento a quest'ora in direzione dei centri urbani per i consueti trasfidimenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche, anche se condizionati dal vento forte. Le previsioni del tempo comunicateci dall'Aeronautica Militare indicano per oggi un cielo sereno ovunque, ma dalla tarda mattinata in arrivo nuvolosità bassa sulle regioni più occidentali che interesseranno il nord e il centro. Porterà piogge deboli al centro e neve sulle Alpi sopra i 1000 metri e in questo momento sono in atto delle nevicate al nord in Val d'Aosta, ma anche sul penino appulo sannitico. Quindi partite equipaggiate di penomatici invernali o catene da neve. Come di consueto monitoriamo le immagini che ci giungono in diretta, qui siamo sulla 11 all'altezza di Sesto Fiorentino, abbiamo una viabilità fluida in entrambe le direzioni. Scendiamo nel tratto capitolino della 24, anche qui si viaggia agevolmente anche se si registrano code a partire da Portonaccio fino alla tangenziale este e code che ritroviamo anche allo svincolo di Torre Nova fino al grande raccordo onurale sulla diramazione di Roma Sud. Inizio nel segnalarvi che si registrano code motivate da cantine di lavoro sulla 9 e la Enate Chiasso. Il tratto interessato è quello che va da Como Centro e Como Nord in direzione del territorio elvetico. Vi ricordiamo che la regione Lombardia ha disposto limitazioni alla viabilità con divieto di accesso per misure di sorveglianza sanitaria nei comuni di Bertonico, Casal Pusterlengo, Castel Gerundo, Castiglione Dadda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini. Chiuse anche alcuni tratti della via Emilia e della Codognese e vi comunico la chiusura della strada statale 9 via Emilia tra Piacenza Nord 1 e Segugnano in entrambe le direzioni dal chilometro 268 al chilometro 284 sempre per emergenza sanitaria e il traffico al momento viene deviato sull'autosole. Ecco queste al momento le notizie di maggior rilievo grazie per l'attenzione e da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità guidate con prudenza fate buon viaggio a voi tutti una piacevole giornata. Arrivederci linea Rai 1, arrivederci.